La classifica, noi continueremo ad allenarci come facciamo ogni giorno, benissimo, ma è niente. Senti, è una bella soddisfazione per te oggi, te la sei tolta, no? Sei appena entrato, hai rotto subito il ghiaccio, questo assist per Grandolfo, sei stato insomma subito decisivo. Bisogna metterci il massimo impegno per poter parigiare la partita. Anche perché abbiamo avuto tante occasioni per poterla parigiare, abbiamo avuto un po' di sfortuna, però poi alla fine ce l'abbiamo fatta. Speravate di vincere alla fine? Sì, abbiamo avuto l'occasione con Emiliano, poi mi sa che abbiamo avuto anche un'altra occasione, però è andata così, ci rifaremo la prossima, noi continuiamo ad allenarci come sappiamo o no. Piredda, contento per la prestazione? Sì, contentissimo. L'importante è aver, come ho già detto prima, aver parigiato la partita. Comunque non perdere ci aiuta sempre a dare il massimo impegno. Ok, grazie. Grazie. Grazie.